Assessore, in queste giornate di festa i musei cittadini saranno aperti, questo per decisione del comune di Catania che giorno 1 e giorno 6, quindi due giorni di festa, per l'appunto hanno deciso di aprire tutti i musei della città. Sì, questo viene dopo qualche polemica riguardante la chiusura per Natale e dei musei, che però è stata una scelta studiata, nel senso che negli anni abbiamo visto come i cittadini catanesi preferiscono il giorno di Natale andare in chiesa o stare in famiglia, salvo poi riversarsi nella città per Santo Stefano. Giorno 1 e giorno 6 ovviamente sono due giorni significativi nei quali molti non lavorano e quindi abbiamo voluto concedere loro la possibilità di usufruire delle bellezze turistiche della nostra città. Questo ovviamente rientra anche in un piano di rilancio turistico della nostra città, della quale io mi sto occupando avendo la delega all'accoglienza turistica e che però va anche in qualche modo portato avanti da un punto di vista comunicativo. Proprio in questo senso stiamo immaginando di dedicare uno spazio nel sito istituzionale del comune di Catania al turismo, alla cultura proprio per incentivare il turismo e anche per indirizzarlo, per fare capire ai turisti cosa c'è da vedere a Catania e che Catania non è una città di passaggio. Questa del 1 e del 6 è sia rivolta ai cittadini ma altresì rivolta anche ai turisti che dovessero scegliere ovviamente la nostra città come metà turistica e quindi crediamo che sia pur se è un sacrificio da un punto di vista della gestione delle risorse umane una scelta significativa.